quante volte mi sono domandato p o v a s u ms queste sigle questi pennini che troviamo nelle penne giapponesi anche internazionali ma in tutta la collezione pilot custom 742 oppure heritage 912 ma cosa significano e cosa sarà un pennino posting come fatto che cosa mi serve per scrivere quanti dubbi quante domande finché poi ne ho provato uno l'ho provato molti anni addietro su una penna vintage che non era nemmeno una pilot e poi più recentemente l'ho provato su questa penna che vale la pena provare cosa ci portiamo a casa a parte questa meraviglia il solito astuccio quello della pari rigido plastica scura cartuccia di cortesia vado veloce perché l'unboxing è identico a tutte le altre pilot della serie 74 in su eccetera allora quindi non spendo altre parole per questo l'attacco di questa penna è quello pilot c'è la cartuccia di cortesia ma per fortuna all'interno della confezione c'è un converter ed è il signor converter ve lo faccio vedere subito cappuccio si svita doppia vedete veretta sul cappuccio potrà distinguere la serie 742 che è quella che si pone a metà strada fra la 74 pur bella penna è assolutamente eccola qua sto dicendo una sciocchezza scusatemi eccola qua tra la 74 e la 743 che ancora più grande e allora ancora una volta quante volte ce hanno detto i nostri vecchi amici latini in medium stat veritas è vero la serie di mezzo è quella che forse la più completa dal punto di vista della qualità perché si distacca dalla serie 74 si sente che è il migliore più massiccia la sezione della del fusto come vedete è cresciuta quindi anche la sensazione l'impugnabilità il bilanciamento ne guadagna ne guadagna davvero molto e poi vi dicevo c'è questo bellissimo convertere cn 70 un converter che ve l'ho detto altre volte non è esente da critica perché è un converter che un converter che si carica agendo su questo pulsante come vedete creando del vuoto richiama l'inchiostro fatelo sempre con molta cautela che cosa non tanto di premere ma di rilasciare perché il rilascio è istantaneo e finisce per richiamare più aria che liquido quindi andate giù bene così ma poi lentamente per riuscire a caricarlo tutto o quasi tutto che è un'operazione non semplice da farsi ma soprattutto per evitare di avere dell'aria sebbene ci sia vedete questo elemento che si muove per cercare di miscelare al meglio l'inchiostro al suo interno però caricarlo tutto ci va molta pazienza per farlo e a volte anche marco chiari insomma poi tra l'altro ecco un consiglio non fatemelo fare adesso perché non mi ricordo neanche dove ho messo il calamaio un consiglio che vi do è di tenerlo caricato a metà io lo sto quasi saurendo ormai questo qua di tenerlo caricato a metà perché il converter di per sé un converter abbastanza pesante troppo carica d'inchiostro ci troviamo ad avere un po troppo peso qua invece che qua andiamo a vedere questa penna anche se ve l'ho presentata già altre volte quindi vado un pochettino più velocemente si presenta molto bene la qualità c'è sia nelle lacature nei bagni galvanici una doppia veretta vi dicevo non sono tre come per la più prestigiosa 743 però assolutamente di qualità molto bella e poi c'è questo pennino pennino posting buona la questa lucidatura sul resina insomma molto piacevole molto liscia molto ben realizzata però sappiamo che il punto di forza delle stilografiche è proprio il pennino la serie 742 adotta il pennino numero 10 c'è il 5 c'è il 15 si va su fino a 50 addirittura ed è però la gamma la 742 che ha la maggior possibilità di caratterizzare la vostra stilografica grazie alle innumerevoli finiture dei pennini questo è il po vedete che è ricurvo verso il basso un po come se fosse il controaltare del pennino overly che invece è ripiegato verso l'alto un pennino con nasino all'insù allora il pennino posting è un pennino molto molto sottile ma scrive sottile perché perché come avete visto state vedendo nelle immagini è un pennino ricurvo il fatto di piegare all'ingiù le due parti finali dei rebbi concorre a dare rigidità al pennino in altre parole viene imbrigliato e non può muoversi un pennino flessibile ricurvo come quello mi viene in mente della waterman emblem per esempio è una un esercizio tecnico magistrale perché non si concilia con la flessibilità quindi cose che hanno bisogno di lintmeister di altissima capacità piegandoli così è anche facile che abbiamo un serraggio molto stretto e permanente dei rebbi questo aiuta per l'appunto con l'adeguata finitura ad avere anche un pennino sottile però il pennino posting ha altre qualità allora intanto vediamo se sono inquadrato sì allora il pennino posting che viene distinto con pio l'ho tenuto un po aperto e poverino essendo così sottilissimo si secca prima di altri il pennino posting ha come caratteristica principale di essere rigido senz'altro è un pennino rigido qui non vale la pena forzare o piegare forzare perché si finirebbe per piegare i rebbi perché il precarico è un precarico molto elevato superato quella soglia arriva la deformazione e con la deformazione buttate via il pennino è dotato di una finitura quindi di una gradazione chiamiamola così che è un'extrafine è un e e f secondo me perché è ancora più sottile dell'extrafine che vi proporrò in un video comparativo video veloce giusto per farvi vedere come scrive però è un pennino che consente di essere utilizzato con un'angolazione molto varia ma ci toglie la possibilità di guadagnare la perpendicolarità nel senso che perpendicolarmente scrive sì ma diventa così sottile come in reverse nib che si fatica a vederlo se utilizzato con inchiostri che non sono molto scuri la caratteristica vi dicevo ma qui devo allargare per forza l'immagine è quella che posso scrivere vedete con un'inclinazione anche molto piccola cioè l'inclinazione che normalmente è attorno ai 45 gradi diciamo 44 42 50 seconda della lunghezza della mano della penna dell'impugnatura lunghezza del pennino insomma tantissime variabili con questo posso anche scrivere con un'angolazione molto più ridotta ovviamente spostandomi anche un pochettino più indietro perché il pennino è rigido e quindi scrive sempre e comunque aiuta anche l'affaticamento perché basta una una pressione minima per portarlo scrivere ovviamente per farlo serve anche una qualità della finitura e della manufattura del pennino come si deve perché la fenditura vedete lo avete visto prima è un po' spessita ma stiamo parlando di un grado sottilissimo quindi è un pennino anche riposante ma soprattutto dalla sua ha la capacità di essere molto rigoroso nel momento in cui andiamo a scrivere quindi posso decidere di utilizzarlo così ma anche per vedete sto scrivendo velocemente non gratta non è un pennino che gratta pur essendo pur essendo extra extra fine perché questa è la sua caratteristica riuscire ad essere molto rigoroso a mettere giù la quantità di inchiostro che giusto che venga messa per risultare visibile insomma è fatto veramente bene questa è una carta che non ha particolari finiture ci aiuta sempre parlando del pennino posti anche ad adottare una dei caratteri con un corpo molto piccolo perché essendo così sottile piccolo mettiamo così carattere ve lo faccio vedere poi in qualche ripresa un po più ravvicinata perché qua si perde tutto non si riesce a vedere essendo così sottile così controllato diventa anche la penna ideale per esempio per scrivere negli spazi di una gendina di una 6 non dico di una 5 ma anche in un blocchetto di di quelli piccoli perché c'è molta precisione molto controllo ovviamente meglio di sé lo dà su carte con una finitura o più liscia avevo portato giusto per farmi vedere alcuni riscontri vedete che c'è la possibilità di ovviamente con qualche carta che sia un pochettino più liscia questo l'inchiostro roerenklinger della e sepia roerenklinger è veramente molto molto ben controllato lo provo sul fabiliano traccia che è una carta da 60 grammi come potete vedere un po vellutata ma insomma ve l'ho presentata recentemente in un video a me piace molto ed è una carta che diciamo potrebbe rappresentare la parte evoluta della favini schizza strappa che un altro ottimo blocco questa è una carta liscia quindi il mio pennino pio posting della pilot 742 l'inchiostro che ho messo dentro è il lami ovviamente abbiamo la possibilità di di sbizzarrirci sia vi dicevo con la scrittura con dei caratteri piccoli con dei caratteri un po più grandi ma sempre con il rigore che un pennino come questo riesce ad offrire ora mi direte beh è facile sulle carte liscia e allora lo proviamo su una carta un po più ruvida la bellezza di un pennino è proprio di un pennino ben fatto è proprio questa che deve essere sottile ma deve essere anche in grado di scorrere su una carta meno rifinita questo ci riesce qui lo vediamo un pochettino meno perché c'è una rigatura massiccia è un po troppo invadente quindi anche con un colore scuro come il lami blue black risalta poco ecco questa è l'unica avvertenza che mi permetto di di dire cioè usate delle carte o con una rigatura per esempio questa qua che è la bella pigna o con una rigatura leggera o addirittura bianche perché ovviamente il tratto si vede di più l'altra avvertenza è quella di avere un inchiostro un inchiostro scuro perché se usate un inchiostro troppo chiaro ahimè si perde un po un po tutto quanto ovviamente come è lecito è giusto che sia su una carta bella la penna diventa ancora più bella aumenta il controllo la soddisfazione proprio di di scrivere ah tra l'altro vedete il controllo ve l'ho fatto altre volte per mostrarvi come il rigore di un pennino ci permetta di chiudere tutte le i raccordi in maniera precisa anche quando scriviamo un po andiamo un po veloci ecco non ci mettiamo a fare i calligrafi ammesso che siamo in grado di farli e marco chiare non lo è di certo però mi spiego qui c'è molto controllo mi permette di scrivere come desidero controllo quello che più volte mi avete sentito dire confidenza diamo così due parole conclusive per questa bella penna innanzitutto a chi è rivolta non certo al principiante perché il pennino è un pennino che va utilizzato con un po di consapevolezza vi ho detto aiuta molto per la sua capacità di scrivere senza alcuna pressione perché il becco chiamiamolo così ricurvo scrive già da solo però è vero che un pennino molto sottile allora potrebbe per esempio mettere in difficoltà chi cerca invece la penna quella veloce quella leggera per scrivere gli appunti è una penna particolare va bene per chi ha voglia di sperimentare di prendersi un pennino che è decisamente diverso da quelli ordinari e scoprire cosa significhi e cosa si possa fare con un buon pennino tra le mani un buon pennino intendo un pennino un po diverso perché il problema è qui taglio corto perché c'è più di un capitolo dedicato nel libro che sto finendo cioè il problema di avere una stilografica con un pennino così arrotondato che finisce per sembrare una penna sfera insomma ne sono pieni i negozi invece sperimentare dei pennini che abbiano delle finiture anche un po diverse che vi facciano capire il perché poi sono pennini che venivano usati una volta erano nati anche per per i contabili che utilizzavano per esempio la carta copiativa e quindi dovevano avere un grado di rigidità maggiore perché col flessibile una volta in voga appunto in quegli anni era impossibile usare la carta carbone insomma è bello scoprire anche questi questi aspetti delle nostre stilografiche è vero che non è una stilografica che costa poco nel senso che non è da primo prezzo non costa neanche eccessivamente se andiamo a paragonarla ad altri prodotti ad altri prodotti stilografici si intende però certamente il prezzo ce l'ha a proposito di prezzo sapete che comunque da un po di tempo c'è questo codice promozionale marco chiari che vi consente di avere anche insomma un trattamento un po diverso quando andate ad acquistarla da da golpen punto e quindi vi lascio in calcio il codice marco chiari e fatene un buon uso a voi tutti cari amici un grazie e vi aspetto ai prossimi video